Bene, in questa lezione affronteremo un altro problema assai comune e diffuso, soprattutto nelle donne, che è l'insorgenza della luce valgo. Abbiamo qui un esempio visibile in cui si nota l'artrosizzazione dove si forma la cosiddetta cipolla, detta così banalmente, che rappresenta l'artrosizzazione tra la prima falange dell'alluce e il primo metatarso. Spesso è presente anche un'inclinazione notevole, non in questo caso, dell'alluce che se ne va verso l'esterno. In questo caso è molto più evidente invece la stratificazione dell'osso che si è andato a formare nel corso di molti anni, perché l'insorgenza della luce valgo è un processo che dura mesi se non anni. Da un punto di vista riflesso, per quanto riguarda il metodo ZU, la cipolla, l'artrosizzazione dell'osso, intercorre sull'articolazione, come dicevamo, prima falange, primo metatarso dell'alluce. Se l'alluce è la testa, il primo metatarso è la colonna vertebrale, la prima falange rappresenta le 7 vertebre cervicali, il primo metatarso rappresenterà le 12 dorsali. Allora, l'articolazione tra la prima falange dell'alluce e il primo metatarso rappresenterà la grande articolazione che abbiamo sulla colonna vertebrale rappresentata dalla settima vertebra cervicale con la prima dorsale. È proprio qui che si va a formare, a stratificare questo osso nel corso di un processo che dura molto tempo. Si dice che è dovuto alle scarpe strette, che è un problema ereditario, se ne sentono dire di tutti i colori. In realtà quando nasciamo, se voi provate a guardare le dita di un bambino appena nato, in realtà le dita dei piedi di un bambino sono distanziate come quelle di una mano. È col tempo e con la crescita che le dita cambiano posizione e diventano qualcosa di alterato rispetto al normale, così come rappresenta una luce valgo.